C'è oggettivamente un problema di traffico e circolazione all'Aquila in questo momento e lo sarà in entrambi gli accessi al centro cittadino. Ai già noti problemi a via 20 Settembre, con i semafori per il ristringimento della carreggiata a casa dei lavori per fare un nuovo guardrail, si aggiungono ora quelli in Viale della Croce Rossa, dove da oggi e sino al 22 dicembre ci sono delle modifiche al traffico per consentire la realizzazione di ben quattro attraversamenti pedonali, ma la ditta lavorerà la notte, proprio per evitare ulteriori problemi. Attraversare in Viale della Croce Rossa è diventato ormai da anni un problema perché è un'arteria molto trafficata. Il Comune così, grazie ai fondi del PNRR, ci mette una pezza. Verranno realizzati degli attraversamenti pedonali. Questo però provocherà altri disagi inevitabili e modifiche al traffico in un momento in cui la circolazione all'Aquila è già congestionata da altri lavori in corso. Intervento questo fatto per garantire la sicurezza di una strada dove ci sono stati negli anni già diversi investimenti di pedoni e dove si è cercato di tamponare con l'istituzione della zona 30, che però non ha risolto tutti i problemi. I residenti qui più volte avevano chiesto al Comune di metterci mano perché l'arteria stradale è molto trafficata, ci sono attività commerciali e case, riuscire ad attraversare è divenuto un problema. Con 100.000 euro del PNRR si cercherà di rendere questa strada più sicura da tutti i punti di vista. Non è il solo lavoro perché questa mattina è stata chiusa e lo resterà per tutta la giornata la parte bassa di via Sallustio per il montaggio di una gru. Chiusura dunque tra via Antonella e via dell'Annunziata. Anche questo è un problema non da poco, ma si tratta di un giorno, del resto la ricostruzione deve fare il suo corso. Per quel che riguarda invece via 20 Settembre, in un mese dovrebbero finire lavori nella parte bassa nel muro a ridosso del convento di Santa Chiara. In questo modo si andrà a togliere uno dei semafori riallargando la carreggiata. Poi si passerà ai lavori veri con il nuovo guardrail a protezione della strada. Si stanno eseguendo le indagini diagnostiche per montare successivamente i pali per realizzare il nuovo progetto che sarà adeguato quindi alle norme di sicurezza.